Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, io sono Angela Slayer e oggi siamo qua per un esperimento della NASA che ragazzi ogni 3500 anni avviene questa inclinazione della Terra e tipo che una scuola può rimanere in piedi sul pavimento, adesso mi mostro guardate ragazzi, come? Con quale fisica? Cioè, viene sostenuta con solo dei fili e resta in piedi Ragazzi vi dico di provare anche voi questo esperimento a casa perché è una cosa impressionante ragazzi Fatelo oggi, prima di mezzanotte magari, che sono le 11 Prima di mezzanotte ragazzi fatelo che funziona, funziona ragazzi, non sto scherzando Ma se avete una scopa, normale, così, vedete ragazzi, la mia è anche un po' rovinata lì, ma funziona comunque Ecco Vedete ragazzi che bello Ragazzi approvatelo assolutamente, ditemi qua sotto nei commenti se a voi vi è riuscito questo esperimento della NASA Che secondo loro ogni 3500 anni, ciao cani, ogni 3500 anni avviene un'inclinazione della Terra che si può mettere la scopa in un modo così figo Ragazzi è bellissimo Ragazzi fatelo prima delle, prima di mezzanotte, sono le 11, fatelo prima di mezzanotte ragazzi E niente ragazzi, spero il video vi sia piaciuto, sia stato sperimentale ragazzi Questa scopa, se non lo so, è qua da un'ora Devo passare di qua, se no mi, mi, non la faccio cadere, se no Ok, perché ragazzi, se ci passate vicino, se la sfiorate, la fate cadere, perché Eh, se ci provate domani, non dovrebbe funzionare, perché la NASA ogni 3500 anni, secondo loro dovrebbe restare in piedi Questa Ditemi nei commenti quante volte avrò detto 3500 anni, l'avrò detto tipo 10 volte, però vabbè Dettagli E niente ragazzi, ditemi se vi è riuscito a voi, e niente, ho fatto il primo di mezzanotte e niente Bella rega, volevo fare vedere questo esperimento bellissimo, ma niente, bella rega Come minchia fa rega, è Gesù, Harry Potter È la scopa di Harry Potter rega, ho capito Vabbè Bella rega Grazie